siamo nell'avamposto ragazzi quindi visto che non abbiamo ancora preso un'arma più potente ci mettiamo nel nostro solito posticino per vedere che tipo di team abbiamo contro wait esi fatto fuori alla in teoria tra le missioni non recupero di esperienza l'esperienza vuol dire prendere quelle cose dorate che si trovano quando ammazzi la gente però qui abbiamo il nostro brutus e qui abbiamo sommi no antes prima che va su no lo sapevo non volevo fare l'assist ma volevo prenderlo totale ricarichiamo qui nel parto un secondo tutto 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 andiamo su Outthunder Sammy, mi ha fatto fuori Sammy mi ha fatto fuori, ricarichiamo Sammy è bello pesantino, non è difficile con quest'arma anche perché si ricarica però non lo facciamo fuori ora c'è anche Outthunder se tira fuori la testolina, lo facciamo fuori di qui vieni, 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 vicina perché io ti faccio più danni e quando hai bisogno di esperienza, vengono fuori solo soldi, 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 soldi uh, già non si ricarica più, quindi perfetto, vediamo se riusciamo a farlo fuori se ne hai aiutate ragazzi perché sennò è normale che Outthunder non viene a beccarmi praticamente allora, Sammy abbiamo visto che Sammy non si sta ricaricando più quindi potrebbe essere che già possiamo iniziare a fare una bella battaglia dove prendo le esperienze e via anche io dove caderemo Sammy e qui abbiamo lui uno fatto fuori qui abbiamo un bardico grande un grande bardico che mi ha fatto fuori l'ho visto tardi, stavo ricaricando che mi ha fatto un problema ah, non mi ha ucciso bardico ah, non mi ha ucciso bardico si è ricaricato e non l'abbiamo fatto fuori stiamo andando ragazzi lui c'è bardico che sta facendo un momento di panico in quello che possa essere il gioco ma niente di particolare adesso non cosa è passato siamo a 1495 punti per 232 quindi non riesce a scelta tra le tante parti facciamo fuori così non fa fuori il manichetto e devo andare a vedere che c'è bardico che si mette inizia a essere cecchino ma ti vediamo se mi fa fuori bardico dove sei? bardico ti ho visto bene chiuso 770 quindi ragazzi ci vediamo al prossimo game